A partire da oggi, lunedì 6 maggio, sono significativi cambiamenti alla viabilità e alla sosta entrate in vigore nel cuore di Teramo. Questo a causa dei lavori di ristrutturazione dell'ex mercato coperto. Le modifiche che rimarranno in vigore fino al termine dei lavori influenzeranno principalmente le vie Muzzi e Stazio e Piazza Verdi. In questo momento c'è stata una modifica anche delle aree di cantiere a seguito delle demolizioni e quindi si è resa necessaria una modifica anche della viabilità, una chiusura di due strade, via Muzzi e via Stazio e un'inversione di marcia di via della Pinacoteca per consentire a tutti l'accesso sul quartiere. Chiaramente questa durerà fino a fine lavori o perlomeno fino a quando sarà necessario delimitare l'area di cantiere per la sicurezza del cantiere stesso. Chiaramente ci saranno dei disagi perché è chiaro che ci saranno dei disagi, cercheremo in qualche modo di limitarli il più possibile e di accelerare i lavori il più possibile. Ma i tempi non saranno celeri soprattutto perché in quell'area insistono diverse strutture che dovranno essere riqualificate, come la sede storica dell'Istituto Braga. Beh, la dobbiamo rendicontare entro il 2026. È chiaro che è nell'interesse di tutti accelerare il più possibile i lavori sul cantiere. Uno, perché il mercato coperto va restituito alla città il prima possibile. E poi perché chiaramente su quel quartiere insistono tutta una serie di disagi perché partirà presto anche il cantiere del Braga, ci sarà anche il cantiere del Teatro Romano. Quindi non è una situazione assolutamente semplice. Sono i disagi che sono dovuti chiaramente ai lavori che ci consegneranno dei luoghi sicuramente diversi rispetto a quelli che abbiamo oggi e che abbiamo ricevuto.